Uno che di Scudetti se ne intende è Martin Pavlou, 12? 12 sì Mica pochi? No, sono moltissimi secondo me Fortunato Dall'alto della tua esperienza, diciamo, ha parlato con la ragione o con il cuore il presidente Rottensteiner ipotizzando un triste vittoria consecutiva per il Renault in questa serie di finale? Certamente quello che lui si auspica, le potenzialità del Renault ci sono hanno un buon portiere, hanno degli ottimi attaccanti, la squadra ha battuto in semifinali di Bolzano che dal punto di vista psicologico era molto importante per loro perciò se la possono certamente giocare, oggi però la partita è molto importante oggi è una partita che potrebbe decidere la serie perché mi sembra che l'Asiago sta solo aspettando il momento opportuno per chiuderla ha molte possibilità in avanti su contropiede e Renault giustamente deve aprire, deve cercare di fare la partita però l'Asiago ha degli uomini molto molto pericolosi davanti Qual è il giocatore o quali sono i giocatori simbolo di questo Asiago che in questo momento almeno sta mettendo le mani sullo scudetto? Ma diciamo che sicuramente c'è gli attaccanti bravi, i difensori bravi ma l'uomo simbolo per me è bellissimo il portiere che è quello che può fare la differenza in questa serie sta giocando veramente molto bene al suo quarto campionato in Italia è cresciuto moltissimo è veramente quello che potrebbe far vincere lo scudetto dell'Asiago Sei consigliere federale, sei uomo diciamo di federazione allora vogliamo già tracciare un bilancio di questa stagione, di questo campionato che campionato è stato? Più luci o più ombre? No, è molto interessante, moltissime belle partite moltissime squadre che hanno giocato fino in fondo abbiamo avuto un buono hockey, abbiamo avuto certamente molte sorprese in semifinale Brunico che ha fatto una squadra molto forte quest'anno è uscito contro l'Asiago, il Bolzano sempre forte come tutti gli anni è uscito contro le non, perciò anche molte sorprese non solo durante il campionato ma anche nei play-off perciò il tuo sommato direi è un ottimo campionato Si parla di un possibile futuro non soltanto nel nostro orticello italiano torna ogni tanto in voga quella che era l'Alpen Liga negli anni 90 uno possibile torneo con squadre austriache, magari slovene, ungheresi L'Hockey italiano oggi è pronto per confrontarsi con altre realtà a livello di campionati? Ma pronto, se si ha i soldi se si ha i soldi puoi fare molte cose, l'abbiamo visto anche in passato probabilmente oggi dovremmo cercare di guardare un po' più su ai nostri vai che i giocatori nuovi negli ultimi anni sono emersi pochissimi è la mia paura che andando avanti così comparando sempre stranieri, stranieri, stranieri a un certo punto ci troveremo senza più giocatori nostrani E Jan Pavlu come si sta comportando? Ma io sono molto felice di quello che sta facendo, sono molto contento Jan Pavlu, classe 1994, grande stagione ad Heilbronn con la squadra giovanile del Mannheim, esatto in Germania Sì, esattamente, ha giocato molto molto bene sono felice per lui perché è stata una scelta molto difficile per lui a cominciare ad andare via di casa ma per adesso sta pagando Ci rivediamo Marti nel prossimo intervallo per fare un'ulteriore analisi della partita Grazie Che cosa ha detto questo secondo tempo? Nel quale non ci sono stati gol però si può leggere in questo parziale di 0-0 qualcosa? Sì, si legge che Renon ci sta provando in tutti i modi a decidere la partita perché le sa benissimo che più avanti vanno sull'1-1 più possibilità l'Asiago perché poi lì basta un gol, magari in contropiede e la partita poi si è decisa perciò Renon ci ha provato in tutti i modi a far cambiare la partita non ci è riuscito l'Asiago è sempre lì che basta un attimo e ti può creare contropiede e può creare molti problemi all'autoguardia della Renon Dall'inizio della partita Frisch, Gruber o forse Ivani via telefonino o cosa sta cambiando le linee di minuto in minuto perché non ci sono punti di riferimento tutti giocano con tutti Sì, anche perché secondo tempo abbiamo visto che Schelfo non è più sceso sul ghiaccio e questo sicuramente è un grosso nello di cappelloro non hanno più le tre linee complete Poi si è fatto maletudine anche sul finire del tempo Si, si è fatto maletudine, quello è importantissimo per loro perciò cominciando diciamo tra virgolette a rancare un po' tutti giocano con tutti, come dicevi tu e diventa anche una questione di fisico, di condizione perché qui l'Asiago attende, il Renon attacca però a un certo punto probabilmente ci sarà anche un po' più la stanchezza perché comunque campionato lungo playoff, terzo turno, gara a tre cioè la stanchezza sicuramente può subentrare è l'errore dietro l'angolo Ecco, l'hai già fatto capire dalla tua analisi ma in che cosa si fa preferire il Renoni in che cosa si fa preferire l'Asiago in questo momento? Ma l'Asiago tutto sommato che riesce a controllare le fatte del Renon non fa granché per cambiare qualcosa attende, sono sul 2-0 perciò possono anche farlo in un modo Renon ha dei giocatori di qualità che stanno cercando di cambiare la partita però il tempo sta passando e credo che il prossimo gol sarà molto importante per questa serie in generale Quasi se cominciasse un overtime adesso insomma Sì, quasi, lo sanno anche tutte le squadre perché abbiamo visto che c'è molta tensione in campo Senti, John Parco tu hai smesso di giocare intorno ai 40 anni lui va per i 39 mi sembra che si sia tolto qualche anno in questa finale perché sta giocando un hockey indemoniato Ma John è certamente un ragazzo che si tiene molto bene l'estate si allena, bisogna dire, come un pazzo per restare in forma e si vede, cioè riesce a giocare ancora un buon hockey alla sua età è ancora utilissima la propria squadra ha certamente l'esperienza da parte sua di moltissimi campionati a giocare in Italia e questo aiuta certamente anche a tutta la squadra Ecco, ti chiedo un'ultima cosa e poi ti lascio andare sulla nazionale visto che ormai il mondiale ha le porte e già sta per cominciare il primo vero raduno senza i giocatori delle finali ci sono elementi molto giovani convocati c'è Gander, c'è Marco Insam, c'è Matteo Tessari che abbiamo visto qui, ci sono i due fratelli Bernard ecco, tu saresti per un largo ai giovani o invece per puntare sull'esperienza nel tentativo di strappare una salvezza? Ma bisogna comunque cercare di strappare una salvezza questo certamente però magari inserire uno o due giovani che sentono l'odore del gruppo A sentono questa atmosfera di questo gruppo A vedono i giocatori tra i più bravi del mondo è un'esperienza indimenticabile per ognuno di loro facciamo inserire o magari portare qualcuno di questi giovani con la squadra sarebbe molto importante per il futuro Ad esempio un Matteo Tessari che sta giocando direi da protagonista una serie di finali scritto ha segnato anche ha sbloccato il risultato in gara 2 merita in questo momento di entrare nei 25 perché poi ne porterà 25 in Germania a Pornacchia Sì, è difficile vede quello che gli può servire sono molti giovani che potrebbero avvenire ai mondiali probabilmente bisogna cercare anche di creare un due o tre ragazzi che vengono a fare da turisti e che hanno la possibilità di vedere dal vivo quello che è l'occhio mondiale perché non dimentichiamoci una cosa che a livello mondiale è un po' un'altra cosa di quello che giochiamo noi qui bisogna dire la verità è molto importante per i ragazzi capire dove si può arrivare da questo punto di vista un Alexander Egger che nel Bolzano fa il terzino che era attaccante in nazionale è stato schierato attaccante può tornare utile nel senso che lui sarà inevitabilmente un attaccante un centro difensivo così come me lo immagino io sì, l'anatore ha deciso di utilizzare in questa maniera e lui l'anatore è pagato per fare l'anatore e se lui lo vede così va bene così mi pare di capire che tu non sia molto d'accordo con questa scelta ma non è d'accordo secondo me ogni giocatore deve giocare il ruolo che sa giocare sa giocare meglio il giocatore dell'anno è abituato hai sui punti di riferimento è molto più facile giocare da attaccante e difensore faresti più la corsa visto che il Canada è fuori gioco più sulla Svizzera o più sulla Lettonia visto che sono nel nostro girone è una domanda molto difficile sicuramente la Svizzera vista le Olimpiadi era una squadra molto forte patina bene, gioca anche duro quello che magari nel passato gli veniva un po' rinfacciato abbiamo visto una partita col Canada bellissima è difficile da dirlo bisogna giocarsene tutti e due secondo me essendo due nazionali che hanno già giocato l'Olimpiade che forse rappresentava l'appuntamento l'obiettivo numero uno stagionale non certo per le medaglie ma per fare bella figura questo può essere un vantaggio per noi che abbiamo invece nel Mondiale il nostro obiettivo numero uno ma sai, il Mondiale è sempre una vetrina per tutti sia per i Lettoni che per i Svizzeri che magari ambiscono di giocare chissà in un Eccel tutti cercano di fare bella figura e credo che la fame ce l'hai sempre il Mondiale è sempre un Mondiale grazie allora Martin Pavlu 12 scudetti vinti da giocatore ricordiamolo ancora qualche istante di pausa per noi e poi il terzo tempo di Renon Asiago grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti